Entusiasmo crescente nel capoluogo per la finalissima playoff. Domenica lupi in campo a Fano con un solo risultato a disposizione. La vittoria. Quattro pullman programmati, tanti tifosi pronti a partire con mezzi propri e altri da fuori sede per seguire l'ultima fatica stagionale del campo basso. Come noto da questa stagione non ci saranno gli spareggi tra le vincenti playoff dei nove gironi di Serie D. Una scelta saggia da parte della LND nazionale vista praticamente l'inutilità di andare avanti per almeno altri 20 giorni con gare ufficiali. Come noto in termini di ripescaggi, almeno quello che abbiamo visto nel corso degli anni, la definizione della griglia playoff conta poco. Importante avere una disponibilità economica di un certo livello. Dunque lupi pronti per la finale. È sicuramente vero che il Fano ha due risultati a disposizione ma è negabile che il campo basso arriva meglio a questo importante appuntamento. Sia per condizione fisica che mentale. Oltre l'arma importante e da non trascurare di giocare con il solo obiettivo di vincere. In semifinale sia Fano che il campo basso hanno faticato più del previsto. Oltre il rosso-blu capaci di vincere nel finale grazie al gol di Gattari, ai Granata non sono bastati tempi regolamentari per avere la meglio sulla fermana. A dimostrazione ulteriore che ogni gara va sempre giocata a dispetto dei pronostici. Formazione da definire per il tecnico Favo che con grande probabilità potrà contare sul recupero di Grazioso in mediana. Possibile dunque un 4-2-3-1 con Grillo tra i pali, difesa con Gattari, Ferrani, Rao e uno tra le noci e Corbo. Due mediani, l'anzillotta e Grazioso con Rinaldi che potrebbe agire nel ruolo di vertice alto del centrocampo. Solito tridente con l'intescambiabili Alessandro Todino e Gabrielloni. Nel fano mister Alessandrini deve rinunciare agli squalificati Lunardini e Sartori. Praticamente è definita la formazione con Marc Antonini in porta, Camilloni, Nodari, Torta e Verruschi in difesa. Gregorini, Favo, Marianeschi e Borrelli nel ruolo di Mezzala con la coppia Gucci-Sivilla in attacco. Panchina probabile per gli altri titolari Ambrosini e De Iori.